Lucia Annunziata a Riccione in occasione del premio giornalistico Ilaria Alpi, non è la sua prima volta, ma ha incontrato il pubblico a Villa Mussolini con il direttore scientifico del premio Andrea Vianello per parlare in particolare della sua esperienza prossima a fine settembre. Infatti sarà direttrice della versione italiana del Luffington Post, sito internet che coinvolgerà in particolar modo, ha detto Annunziata, giovani naturalmente avvezzi con lo strumento tecnologico ormai per eccellenza, ovvero internet. Ricordiamo Lucia Annunziata, editorialista, giornalista, presidente anche della RAI, nonché fondatrice nel 2000 dell'agenzia Apibiscom, non è dunque nuova anche ad un mezzo non prettamente tradizionale come internet. Occasione questa anche per ricordare Ilaria Alpi, ma sentiamo direttamente nell'intervista la neodirettrice dell'Huffington Post annunziata. È la mia terza o quarta presenza, è uno di quegli appuntamenti in cui cerco di non mancare, insomma, dispiace che quest'anno non vedrò i genitori, insomma, che erano una presenza fissa anche al TG3. Senta, naturalmente la domanda è d'obbligo, direttore della versione italiana di Huffington Post, vorremmo sapere a che punto è, allora si parte a settembre? Sì, sì, parte il 25 settembre, sarà un giornale molto serio, speriamo che la serietà paghi anche su internet, serio nel senso di materie affrontate e anche come toni, perché io poi credo nell'informazione, nella credibilità dell'informazione, quindi non sarà un giochino, ecco. Ci saranno delle differenze con la versione americana? In termini di piattaforma, la piattaforma è internazionale ed è inammovibile, è quello poi il loro forte, anche perché hanno una piattaforma molto bella, insomma, ma invece tutte le edizioni hanno libertà editoriale sui contenuti nel proprio paese, insomma, quindi naturalmente è, diciamo, comunque di orientamento liberal, però, diciamo, la modulazione dei contenuti, chi sceglie di fare più, sono stati, sono tutti liberi nelle varie edizioni. Sarà un accento particolare che lei ecco vorrà inserire nella sua direzione? Ripeto, io vorrei molto occuparmi di quelle che si chiama hard news, economia, politica, politica estera europea, diciamo, perché secondo me oggi in verità la sfida di portare informazioni solide su questo terreno e in particolare poi su internet, che spesso è molto derivativa, secondo me va la pena, è una sfida. Non so se questo pagherà in termini di gradimento della rete, però poi ognuno deve cominciare, insomma, vediamo. Qual è il suo punto di vista? Al premio Lari Alpi si parla di giornalismo, in particolare di inchiesta, ma internet può accompagnare o ostacolare l'informazione dei media tradizionali? Cosa ne pensa? No, io penso intanto che internet è il futuro anche dei media tradizionali, questo non vuol dire che spariranno, ma insomma voglio dire che internet sta attraversando e cambiando già adesso i media tradizionali, poi è difficile dire cos'è tradizionale, cos'è no, adesso la televisione è tradizionale, non era tradizionale. Diciamo che internet, essendo una tecnologia più che un nuovo media, le sta attraversando tutte e cambiando tutte. Sicuramente per ora ha moltissimo avvantaggiato chiunque volesse fare inchiesta e chiunque, voglio dire, internet ha aperto per la sua trasparenza fonti che prima non avevamo. Naturalmente internet può essere usata in tante maniere, incluso in maniera manipolativa, però anche i giornali, anche gli altri, anche i media che adesso sono tradizionali, una volta erano nuovi. Io penso che sia molto positivo internet.